Sono Matteo Gambaro, proprietario e winemaker a Casa Sola. La filosofia non può che partire dal rispetto del territorio. Il lavoro del vignaiolo, soprattutto quando è fatto in modo artigianale, ha un rapporto indissolubile col suo territorio, quindi di rispetto e di amore verso questa terra. Io sono atterrato permanentemente in azienda nel 2002, ovviamente facendo parte di una proprietà familiare, sin da quando sono nato, Casa Sola era nel DNA, quindi diciamo che è stata poi una seconda rinascita, un secondo arrivo. Il territorio ha un vincolo imprescindibile col vignaiolo, fa parte così degli ingredienti e delle materie prime e ci vuole una conoscenza approfondita del territorio, anche perché, forse dicevo prima, chiamo questo territorio e un amore maturo non può prescindere dalla conoscenza approfondita.